Risparmio Buongiorno a tutti, mi chiamo Aldo Vinello e mi occupo del corso sul risparmio. Noi italiani, come noto, siamo un popolo di grandi risparmiatori. Per questo motivo oggi più che mai il risparmio è un bene da tutelare. Nel corso dell'anno cercherò di far conoscere meglio il mondo del risparmio nel quale lavoro da moltissimi anni. Faremo insieme un percorso variegato e spero di grande interesse. Vi parlerò del mercato finanziario, dei suoi strumenti, della rischiosità e della volatilità, temi molto attuali per capire come difenderci dalle sirene dei facili guadagni. Approfondiremo le tematiche dei cicli economici e delle crisi finanziarie. Cercheremo di capire come proteggere gli investimenti, come trasferire la ricchezza nel passaggio generazionale, come costruire un portafoglio. Cercherò insomma di soddisfare tante curiosità. Il corso sarà impostato a moduli di 3-4 lezioni e in ogni modulo lasceremo uno spazio per approfondire anche gli aspetti legali. Buongiorno, mi chiamo Edoardo Binello e sono un giovane avvocato del Foro di Torino. Quando si trattano argomenti come investimenti finanziari, passaggi generazionali di patrimonio e in generale di risparmio, è più che mai importante avere nel proprio bagaglio le principali nozioni tecnico-giuridiche, tanto di carattere civile quanto di carattere penale, che regolano la materia. Durante il corso, di concerto anche con esperti commercialisti ed esperti fiscali, cercheremo di approfondire l'evoluzione dottrinale e i principali arresti giurisprudenziali con il preciso intento di aiutare ad evitare i più che mai facili incidenti di percorso.